Mi chiamo Ba Babali, vengo dal Senegal, ho 12 nipoti che hanno andato alle scuole, grazie a me che loro studiamo, senza di me non andavo alle scuole. Mi chiamo Samia Naroga, vengo da Uganda, io da futuro vorrei fare, vorrei fare tante cose per mia famiglia, costruire una casa per mia madre. Mi chiamo Omar Mohamed, sono egiziano, speriamo che troviamo qualche lavoro, lavoro in regola, portiamo mia famiglia qua, sono due bambine, gemelli, giminuzi. Io sono Ibrahim Tisse, io provengo dal Senegal, ho messo in piedi nel 1993 un'associazione multiculturale africana e ho contribuito insieme ad altri fratelli senegalesi a far crescere questa realtà associativa. Dini ciao! Ciao! Ciao!